Guardia di finanza, attenzioni puntate su una presunta evasione fiscale per oltre 12 milioni di euro. Ma la spina, agente di polizia penitenziaria aggredito da un detenuto. Droga, un arresto a Gela, sequestrati dai poliziotti, due panetti di hashish e un bilancino di precisione. Caltanissetta, fiera di San Michele all'ex foro Boario, l'opinione dei cittadini. Ben trovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. Guardia di finanza, attenzioni puntate su una presunta evasione fiscale per oltre 12 milioni di euro. Sentiamo il servizio. Presunta evasione d'imposta mediante l'emmessa presentazione delle prescritte dichiarazioni dei redditi e dell'IVA per il triennio 2018-2020. Oltre 12 milioni di euro, questa la cifra relativa al volume delle vendite sottratte al fisco secondo l'attività ispettiva eseguita attraverso anche dei controlli incrociati da parte della Guardia di Finanza nissena. È stata conclusa infatti nei giorni scorsi dai finanzieri del gruppo Caltanissetta un'articolata attività di ispezione tributaria nei confronti di un'azienda, il cui amministratore, un cittadino asiatico che opera nelle province di Caltanissetta e Catania, esercita il commercio all'ingrosso di prodotti casalinghi. Le fiamme gialle di Caltanissetta proseguono nel loro impegno a tutela della legalità e della concorrenza, si legge nel comunicato, assicurando il giusto apporto da parte di tutti i contribuenti alle entrate dello Stato che consentono la puntuale erogazione dei servizi pubblici. Al carcere Malaspina un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto. Sentiamo i particolari. Un detenuto del carcere Malaspina di Caltanissetta ha cercato di sottrarre le chiavi delle celle a un agente di polizia penitenziaria per aggredire un altro recluso con il quale c'erano probabilmente delle ruggine in sospeso. Fortunatamente l'intervento del personale della polizia penitenziaria ha scongiurato che l'aggressione andasse in porto. Una circostanza è emersa a seguito di un comunicato del sindacato di polizia penitenziaria Sinappe, il cui coordinatore nazionale Rosario Mario Di Prima ha fatto una riflessione sulla situazione del regime penitenziario e sulla situazione della casa circondariale di Caltanissetta. Una delle questioni sulle quali i sindacati di categoria hanno insistito parecchio nel recente periodo riguarda il numero insufficiente di agenti, spesso costretti a lunghi e sfibranti turni per garantire la sicurezza e la tutela all'interno della struttura di via Messina. La questione sicurezza è dunque in primo piano. Il coordinatore del Sinappe ha lanciato un appello alla politica, in particolare al governo che si insedierà dopo le elezioni di domenica prossima, a mettere in atto gli interventi necessari sulla questione. Atto vandalico all'esterno della sede dell'Ordine dei giornalisti a Palermo, interviene la Federazione Italiana Giornalismo Editoria e Comunicazione. Giornalisti nel mirino dei vandali, alcune scritte novax in cui erano ben chiari insulti quali censura e nazismo, sono comparse davanti alla scritta della sede dell'Ordine dei giornalisti in via Bernini a Palermo. Netta la presa di posizione della Federazione Italiana Giornalismo Editoria e Comunicazione, sindacato aderente alla CISAL, i cui consiglieri nazionali siciliani Giulio Francese, Santino Franchina, Orazio Raffa, Attilio Raimondi, Daniele Ditta, Roberto Immesi, Graziella Lombardo e Viviana Sammito hanno affermato. Gli atti di vandalismo, intimidazione e violenza non solo non condizioneranno il lavoro dei giornalisti, ma rappresentano un ulteriore stimolo a proseguire nel solco di un'informazione libera, corretta e plurale. I consiglieri figge e auspicano anche che sia fatta piena luce sull'accaduto e che gli autori del gesto siano individuati in tempi rapidi dalle forze dell'Ordine, dicendosi certi che tutta la stampa siciliana e non solo continuerà a lavorare con scrupolo e puntualità per fornire un servizio essenziale per i cittadini come l'informazione. Un arresto per spaccio a gele. I poliziotti sequestrano 200 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Sentiamo i dettagli. E con l'accusa di essere un presunto pusher che un disoccupato gelese di 30 anni è stato arrestato e collocato ai domiciliari dai poliziotti del commissariato della città del Golfo. Gli investigatori sono intervenuti nel corso di un'attività di controllo antidroga durante la quale hanno perquisito l'abitazione dell'uomo che ha alle spalle alcuni precedenti. Gli agenti, nel corso della perquisizione in casa dell'indagato, hanno trovato due panetti di hashish per complessivi 194 grammi di stupefacente. Ad aggravare la situazione anche il fatto che l'uomo avesse in casa un bilancino di precisione, strumento solitamente utilizzato per preparare le dosi da smerciare. Naturalmente stupefacente e bilancino sono stati sequestrati dagli agenti. A quel punto per il trentenne indagato è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dai magistrati della procura di Gela. Misura che peraltro già aggravava sul trentenne, in quanto sta scondando agli arresti in casa sua una condanna a un anno e quattro mesi per un caso di falsa testimonianza. Adesso la nuova accusa dispaccio da cui dovrà difendersi. Ladri in azione al liceo scientifico di Canicattì, rubati alcuni computer portatili e una cassa acustica. Colpo notturno al liceo scientifico Leonardo Sciascia di Canicattì, da dove sono stati rubati sei computer portatili e una cassa acustica. Un furto eseguito probabilmente a più mani quello perpetrato all'interno dell'istituto scolastico. I ladri, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Canicattì, hanno forzato una delle porte secondarie della scuola per introdursi all'interno. Obiettivo la ricerca di materiale di valore. In questo senso le attrezzature moderne, sempre più presenti e diffuse nelle scuole, rappresentano un'occasione ghiotta per i malviventi che possono poi rivendere i dispositivi elettronici o i loro componenti. Il furto è stato scoperto al momento dell'apertura dell'istituto ed è stato il dirigente scolastico a segnalare l'accaduto alla stazione dei militari dell'arma, i quali hanno subito avviato un'indagine a carico di ignoti sotto il coordinamento della procura di aggrigento. Ancora da quantificare il danno subito dal liceo Sciascia, visto che le attrezzature non sono coperte da polizza assicurativa. Da capire se nelle vicinanze della scuola ci siano telecamere di sorveglianza con sistema di registrazione e che quindi potrebbero avere filmato gli autori del furto. La fiera di San Michele all'ex foro Boario. Sentiamo cosa pensano i cittadini di Caltanissetta. Da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre all'ex foro Boario si terrà la fiera di San Michele, dove insieme alle bancarelle verranno incorporate anche le giostre. Dunque, dopo varie verifiche, si è scelto questo sito, proponendo di svolgere in un'unica area tutta la fiera. Dopo la scelta che lascia per le bancarelle la zona del viale Regina Margherita e del pian del lago per le giostre, abbiamo chiesto ai cittadini nisseni cosa ne pensano di questo cambiamento ed è la scelta dell'ex foro Boario, chiedendo loro di raccontarci dove è il collocamento migliore e ricordi che hanno dei luoghi dove si è svolta la fiera di San Michele negli anni passati. Sicuramente in zone più centrali della città, quali potevano essere o via Rochester oppure via la Regina Margherita. Ho capito che crea problemi alla viabilità cittadina, però sicuramente era di maggiore fruibilità. Che io mi ricordi la collocazione migliore è al via la Regina Margherita, in quanto si sente più a casa uno avendo questa fiera in quella zona. Per me il foro Boario è molto dispersivo, molto lontano e molte persone non andranno sicuramente perché è molto lontano e quindi sarà più che altro l'occasione per i giovani andare là in quella fiera. Ma io sono nostalgico, il ricordo più bello che ho è quella in via Rochester. Certo, i tempi sono cambiati e magari per motivi logistici è stato scelto quest'altro sito che però è un po' fuori mano, fuori sede. Altra locazione era quella in via la Regina Margherita, vicina al cuore della città. Comunque è sempre una gioia la fiera di San Michele, che porta molte persone, non solo da Caltanissetta ma anche dai comuni vicini, a riportare le persone in città. La raccolta alimentare del Santo Patrono organizzata dalla Caritas per sabato. Sentiamo i particolari. Anche quest'anno la Caritas di Caltanissetta si prepara ad accogliere la solidarietà dei nisseni che daranno il proprio contributo per le famiglie in difficoltà durante la raccolta alimentare del Santo Patrono. Sabato 24 settembre infatti davanti ai supermercati cittadini che hanno abbracciato l'iniziativa ci saranno alcuni volontari che mettono a disposizione del prossimo il proprio tempo e impegno e che saranno presenti per raccogliere prodotti che i cittadini doneranno. Come da qualche anno a questa parte, in prossimità della solennità di San Michele, la Caritas di Caltanissetta organizza una raccolta alimentare per tutti i supermercati della città. Grazie al contributo di tanti volontari che vengono dalle diverse comunità parrocchiali che cerchiamo sempre di coinvolgere, si riesce a portare avanti questa iniziativa che permette quindi di raccogliere generi alimentari di prima necessità che poi vengono portati direttamente presso i nostri empori in via De Gasperi per utilizzarli nel servizio che l'emporio alimentare svolge ormai da diversi anni, quello del sostegno e del supporto a tante famiglie della nostra cittadina nissena. Prosegue intanto l'attività quotidiana della Caritas. Le attività della Caritas che si portano avanti in questi mesi riguardano innanzitutto sempre il fronte ucraina quindi continuiamo sempre la nostra accoglienza, il nostro supporto, il nostro sostegno alle famiglie che sono ospitate a Caltanissetta presso alcuni istituti religiosi, presso alcune parrocchie e presso anche alcune famiglie. E poi continuano le attività ordinarie della Caritas, il centro di ascolto, le attività dell'Emporio. Tanti progetti in cantiere. Stiamo cercando di concludere e presentarli poi durante l'anno al nostro Vescovo Diocesano nonché anche a Caritas italiana in attesa anche di avere le dovute autorizzazioni per iniziarli. Quindi diciamo le idee non mancano mai. Le idee non mancano mai, no, la Caritas è sempre un cantiere aperto. Sabato a Caltanissetta la festa di San Pio da Pietrelcina La parrocchia di San Domenico si prepara a celebrare la festa di San Pio da Pietrelcina sabato 24 settembre. Dopo il Santo Rosario delle 18 infatti ci sarà la celebrazione della Santa Messa alle 18.30 con la consegna alla comunità parrocchiale di oggetti e lettere appartenenti al Santo e che sono state donate alla parrocchia nei mesi scorsi. Tra questi un guante e una sciarpa di San Pio da Pietrelcina. È un grande dono che abbiamo ricevuto. Un nisseno era intimo amico di Padre Pio da Pietrelcina, è venuto a mancare a gennaio e gli eredi ci hanno fatto questo prezioso dono di alcuni oggetti appartenenti a Padre Pio. Giorno 24, sabato 24, durante la Messa delle 18.30 queste reliquie verranno consegnate ufficialmente alla parrocchia, alla comunità e quindi potranno anche essere motivo di preghiera, motivo di conoscenza anche di questa bella figura del Santo da tanti amato e sarà anche un momento per riprendere insieme il nostro cammino nella via della Santità. Si tratta di alcuni oggetti appartenenti al Santo, la sciarpa, il guanto, delle lettere autografe e poi degli altri oggetti personali e ci sono anche delle crosticine, delle mani. Sappiamo che Padre Pio aveva le stimmate e quindi sono state raccolte e conservate anche queste croste messe in un reliquiario. Quindi si tratta sia di oggetti sia da parti del corpo di Padre Pio che sono stati donati alla parrocchia e resteranno qui in questa parrocchia. Eventi in città, San Luca, mercoledì sera, Cabaret Please, spettacolo di Alessandra Falce e Michele Privitera con la regia di Antonello Capodici. Torneranno ad esibirsi, intrattenere il pubblico e farlo divertire Alessandra Falce e Michele Privitera con il loro duo no duo. I due attori nisseni porteranno in scena domani sera, mercoledì 21 settembre, lo spettacolo Cabaret Please con la regia di Antonello Capodici. Una serata che sarà dedicata alla risata organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Caltanissetta coinvolgendo il quartiere San Luca ed in particolare il suo comitato e che fa sempre parte delle iniziative parallele e fuori binari del Festival Miniera Sonde d'Arte. Questo spettacolo è un escursus nel mondo della comicità, nel senso che partiamo dai nostri nonni ecco, lo stile di vita a paragone con i giorni moderni, tutto sulla chiave ovviamente comica come è il nostro duo. Ci sarà un alternarsi di sketch e di, diciamo, momenti di riflessione, sempre con la chiave ironica. Nasce, lo spettacolo nasce da una prova che noi abbiamo sostenuto, ecco. Per gioco abbiamo partecipato come duo al Festival Agorà, il Festival della Comicità che si è svolto a Portempedocle qualche annetto fa. Da lì appunto abbiamo vinto il premio come miglior coppia comica emergente e da lì è nato appunto questo spettacolo Cabaret Please. La performance nel Giardino della Legalità non sarà la sola in programma per i due attori che pensano già ai prossimi appuntamenti a teatro con una nuova stagione di teatro comico. Saranno cinque gli appuntamenti in stagione, tutti in teatro appunto comico, con artisti del calibro nazionale e regionale. Oltre ad organizzare stagioni quindi sia sul territorio nisseno, ormai sono anni che gestiamo delle stagioni sul territorio di Enna, collaboriamo anche con alcuni teatri dell'Agrigentino, del Messinese e quest'anno anche di Palermo dove stiamo diventando piano piano un punto di riferimento per le organizzazioni delle varie stagioni. Oltre naturalmente alla gestione e all'organizzazione delle varie stagioni ci pregiamo della possibilità di girare gran parte della Sicilia con i nostri spettacoli, spettacoli fatti dal trio, quindi dal triangolo no trio e in alcuni casi anche dal duo appunto rappresentato da me e Alessandra con lo spettacolo Cabaret Please. E diamo un'occhiata alla situazione Covid. Nelle ultime 24 ore il riscontro di 51 pazienti positivi nel Nisseno, tutti in isolamento domiciliare. 16 sono di Gela, 15 di Caltanissetta, 9 di San Cataldo, 3 di Son Matino, 2 di Villalba, 2 di Mazzarino, 1 di Butera, 1 di Milena, 1 di Mussomeli e 1 di Riesi. Nessuna variazione sui ricoveri ordinari. Guariti 15 pazienti di Caltanissetta, 12 di Gela, 2 di Mazzarino, 2 di San Cataldo, 1 di Butera, 1 di Niscemi e 1 di Riesi. E passiamo allo sport. Eccellenza la Nissa torna al Palmintelli, domani il recupero con l'oratorio San Ciro e Giorgio. Il Palmintelli torna a ospitare una partita della Nissa, vista l'indisponibilità dello stadio Marco Tomaselli che si spera torni al più presto fruibile con il nuovo manto erboso sintetico, la squadra di Alessandro Settineri giocherà il recupero della seconda giornata di campionato nel campo sportivo di Viale della Regione. Un impianto costruito negli anni 30 del secolo scorso al quale gli sportivi nisseni sono profondamente legati, anche se sono sempre più lontani i fasti di un tempo quando la Nissa militava in Serie C e si confrontava con squadre blasonate, Regina, Juve Stabbia, Nocerina, Cavese e Frosinone su tutte. Oggi la realtà si chiama eccellenza e il presente propone Nissa, oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo in programma domani nel campo sportivo di Viale della Regione, fischio d'inizio alle ore 16. I biancoscudati inseguono il primo successo dopo due sconfitte contro Casteldaccia e Acragas. Anche l'oratorio San Ciro e Giorgio, che punta alla salvezza, non attraversa un buon momento. Domenica scorsa la formazione biancorossa è stata battuta sonoramente in casa dal Casteldaccia, uno 0-3 con poche attenuanti. Sembrano esserci tutti i presupposti per assistere a una partita tirata e combattuta. In casa Nissa c'è voglia di riscatto e una vittoria, al di là dei tre punti, servirebbe soprattutto per tirare su il morale di giocatori e tifosi. Bene, per questa edizione è tutto. Vi lascio al Meteo e alle notizie di pubblica utilità. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì. Chi vedrà ancora correnti fresche settentrionali interessare l'Italia, ruotano attorno a quest'area di alta pressione presente sull'Europa settentrionale e si riversano sul nostro paese sotto forma di venti da nord-est che soffieranno piuttosto sostenuti. Controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia. Qualche annuvolamento va a interessare ancora una volta le regioni adriatiche, portato appunto da queste correnti fresche da nord-est. Qualche nuvola si infila anche in pianura padana e poi guardate, questa nuvolosità sul Mediterraneo centrale porterà conseguenze soprattutto in Sicilia. Controlliamo infatti le precipitazioni attese sull'Italia torna qualche piovasco sul medio adriatico fortunatamente non particolarmente intenso qualche goccia di pioggia anche sull'Appennino e poi appunto a fine giornata tempo in peggioramento sulla Sicilia orientale. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì più variabile sul medio adriatico con qualche nuvola anche in pianura padana e qualche piovasco vi dicevo tra Romagna, Marche e Abruzzo. E poi alla fine del giorno tempo in peggioramento sulla Sicilia orientale anche in Sardegna sui settori orientali non mancherà qualche piovasco. Nel resto del paese ampia zona di sereno occhio al vento soffrirà sostenuto da nord-est e temperature in leggero calo. Per tutti i tagli comunque sulle vostre località consultate l'app di Trebimeteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Romano Corso Vittorio Emanuele Servizio notturno La China Via Fraggia Ratana Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele